Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Buonasera e bentornati al consueto appuntamento con gli eventi di Promoserio. Fino al 9 novembre tutti i bambini e i ragazzi nati dal 2004 al 2014 e residenti nei comuni di Onore, Rovetta, Songavazzo, Cerete, Fino del Monte e Cassione della Presolana potranno richiedere lo skipass unico per la stagione 2019-2020 per i comprensori sciistici di Aprica Colteno Golgi, Borno, Schilpario, Montecampione, Ponte di Legno Tonale, Valpalot, Colere e Presolana Montepora. Venerdì 25 ottobre l'Unione Sportiva di Lentantistica di Nembro presenta il film Il segno di Revo con la regia di Gian Mario Lesmo, con Massimo Nicoli e Adelaide Tommasi e con la partecipazione straordinaria di Veronica Renne, Laura Finazzi e Andrea Arrigoni. Appuntamento alle ore 20 e 30 presso l'Auditorium Modernissimo di Nembro. Ingresso gratuito. Nell'ambito del progetto di mostre di Artist Sociologist, il Bax di Leffe inaugura la mostra personale di Carla Crozio a cura di Studio 10 di Vercelli e presentata da Diego Pasqualin. Inaugurazione sabato 26 ottobre dalle ore 16 e 30 alle ore 20 e 30. La mostra sarà visitabile fino al 17 novembre. Sabato 26 ottobre la Proloco di Parre organizza la quarta edizione della Festa della Porca al Paladon Bosco. Dalle ore 19 cucina aperte e griglia al massimo per una cena a base di porchetta, casciola bergamasca, grigliata mista di maiale, stingo al forno e tanto altro. A seguire, musica dal vivo con Bepi e The Prismas. La strada provinciale 36 Nembro-Selvino sarà protagonista sabato 26 ottobre del Crono Day alla memoria di Egidio Moret, con gare competitive di handbike, ski roll e corsa su strada. Percorso in salita di 10 chilometri con un dislivello positivo di 600 metri su strada chiusa al traffico. Partenza da Nembro alle ore 14 e 30. Arrivo previsto a Selvino in Corso Milano, Piazza del Comune, intorno alle ore 15 e 30 circa. Ultimo weekend di appuntamenti per Castania, il mese dedicato alla castagna a Pradalunga. Sabato 26 ottobre, castagnata sotto le stelle alle ore 20 in Piazza Mazzini, calda arroste e birra a volontà. Invece, domenica 27 ottobre, dalle ore 10 alle ore 19, presso la Piazza Mazzini, a Pradalunga, giornata dedicata alla cultura e sapori della castagna, con mostra sul castagno, stand, esposizioni di oggetti e prodotti tipici, prodotti a base di farina di castagne, calda arroste e alle ore 15 e 30 per i bambini, favole sotto il castagno, a cura della biblioteca di Pradalunga. Tornano anche questo fine settimana gli appuntamenti con i percorsi turistico-culturali con degustazione. Sabato 26 ottobre, una breve passeggiata adatta a tutti, ci condurrà dal paesaggio rurale di Onore, attraverso la curiosa Val di Tede, fino ad arrivare alla Fattoria della Felicità, dove esperti in orcini ci mostreranno alcuni segreti dell'arte di produrre il salame. La prenotazione a tutti questi percorsi è obbligatoria, chiamando il numero 342 38 97 672. Per questo appuntamento è tutto, vi ricordiamo che potete trovare maggiore informazione su tutti gli eventi della settimana in Vasseriana e in Val di Scalve sul nostro portale www.vasseriana.eu. Arrivederci e buona serata.